salve salve eccoci qua finalmente con la sigla iniziale di questa nuova avventura che ci porterà di qui a tutto l'anno con il martedì sera il tg simone vediamo di cosa si tratta intanto siamo appunto alla prima edizione siamo in diretta su vari canali adesso li spiegheremo ringrazio intanto le numerose persone che seguono le varie iniziative ma questa in particolare perché è una modalità con la quale oltre all'aspetto divulgativo c'è l'aspetto di intrattenimento c'è l'aspetto di approfondimento e c'è l'aspetto di illustrazione di come autonomamente riuscire a prepararsi studiare approfondire ed è rivolto a chi si prepara i concorsi ai dipendenti della pubblica amministrazione ai curiosi a chiunque voglia interagire su queste tematiche avrete anche la possibilità di intervenire direttamente è l'edizione numero uno andiamo a vedere intanto chi siamo siamo diciamo il sottoscritto simone chiarelli lavoro nella pubblica amministrazione ormai da molti anni sto arrivando quasi ai 30 anni di permanenza nella pia e opero come attività didattica molti di voi mi conoscono su vari canali un po tutti quelli che vedete sopra i vari social network ma non sono e non sarò da solo in questa iniziativa che cosa intendiamo fare intendiamo fornire degli strumenti di aggiornamento di approfondimento di spunti durante un percorso nel quale tutti i martedì sera alle 20 e 30 faremo questa edizione del tg della durata di circa un'oretta un po più un po meno a seconda delle novità questo è il logo che caratterizza questa edizione e adesso spieghiamo il perché di questo nome tg simone non è legato a me ma è legato alle edizioni simone che sono leader nella preparazione ai concorsi sia per la manualistica sia per i servizi online e che hanno il nome uguale al mio e allora abbiamo unito queste due cose creando il tg simone il tg dell'edizione simone e il tg di simone chiarelli io ringrazio l'edizione simone che ha messo a disposizione il materiale che vedremo che utilizzeremo sia per quanto riguarda i libri di testo sia per quanto riguarda i quiz commentati io sono uno dei fruitori 30 anni fa quando ho vinto il mio primo concorso proprio grazie alla manualistica dell'edizione simone vi ricordo però un altro aspetto importante l'obiettivo non è vedersi una volta alla settimana e in quel momento aggiornarsi e approfondire ma vedersi durante tutta la settimana per questo è stato realizzato un gruppo telegram telegram è una piattaforma social molto utile per questo tipo di interventi vedete qui il link la potete facilmente raggiungere ci sono già più di 650 iscritti dove dopo ogni tg vi metterò le slide quelle che sto proiettando in modo tale che non dobbiate prendere appunti fare screenshot o d'altro le avete a disposizione e il materiale aggiuntivo quello che deriva anche dai vostri quesiti dalle vostre domande dai vostri spunti o anche le novità in attesa poi della nuova edizione anche suggerimenti già molti hanno dato il loro input per gli argomenti da trattare ma soprattutto vi chiederò quali delle rubriche perché come tutti i telegiornali è formato da rubriche che si amplieranno nel corso della delle prossime edizioni oggi è quella iniziale ci sono soltanto io nelle prossime avremo anche degli ospiti avremo delle interviste avremo anche dei servizi dall'esterno questo è il gruppo telegram mi raccomando segnatelo e se volete partecipate e interagite t punto m e slash tg simone concorsi e lo trovate sulla piattaforma come detto partiamo dalla prima rubrica che ci sarà sempre tutti i martedì avremo la rubrica quiz in diretta quindi preparatevi nella vostra chat dove state seguendo questa diretta altrimenti prendete appunti facciamo quiz preso dai manuali delle edizioni simone quiz in diretta vediamo allora il primo le fonti di cognizione sono a gli organi giurisdizionali in quanto incaricati di far applicare il diritto b i documenti redati dalla pubblica autorità da privati che riproducono il testo di una norma c i documenti ufficiali che riproducono il testo delle norme giuridiche di quelle indicate nella costituzione nel codice civile nel codice penale scrivete pure nella chat la vostra risposta per chi sta seguendo su youtube del mio canale vi metto l'apposito sondaggio in modo tale che possiamo vedere le statistiche di risposta che sono sempre molto utili da evidenziare chi è su altri canali social stiamo andando su tutte le piattaforme mie e delle edizioni simone quindi vi invito anche a visitare il canale youtube la pagina instagram la pagina facebook delle edizioni simone vediamo allora come andate a rispondere ma soprattutto vedremo alcune tecniche di come ci si approccia ai quiz anche in questo telegiornale andremo abbastanza velocemente domanda questa abbastanza semplice dove stavano gli inghippi allora si vanno a cercare le risposte sbagliate fonti di cognizione cosa vorrà dire cognizione dove vengo a conoscenza cognizione viene da conoscenza dove vengo a conoscenza delle norme sicuramente le fonti di cognizione non sono gli organi giurisdizionali quindi la a era sbagliata per quella parola organi poi se parlo delle fonti del diritto la b è sbagliata per quella parola o da privati non è pensabile che le fonti normative vengano da privati quelle indicate nella costituzione nel codice civile nel codice penale è lo specchietto per la lodole è la domanda la risposta che si sarebbe potuta dare perché perché la costituzione ovviamente tratta delle fonti di cognizione parla della gazzetta ufficiale il codice civile ne parla il codice penale ne parla ma attenzione la d è un numero chiuso una serie di risposte limitata allora la risposta esatta è la c quella che rimane quella priva di errori le fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso cui i consociati possono conoscere il contenuto delle norme ad esempio la classica gazzetta ufficiale essi quindi sono documenti ufficiali che riproducono il testo di norme giuridiche vedete la b era molto simile quindi la b si prestava a essere un trabocchetto perché se toglievo redatti da privati la risposta appariva corretta e quel privati che l'aveva resa sbagliata questo è un tipico quiz preso da un manuale edizioni simone dove importante c'è la risposta esatta commentata senza il commento qui viene preso la prima molto sintetica poi troveremo delle risposte molto più analitiche che sono ancora più utili perché fare un quiz significa ripassare tanti concetti tante materie quindi vi invito a valutare sempre la di dare preferenza ai quiz commentati andiamo a un'altra rubrica sempre valorizzata su il materiale messo a disposizione dall'edizione simone che sono i libri per lo studio quando si studia io ritengo che lo strumento principale debbano essere le video lezioni oggi con le video lezioni si possono fare tantissime cose tantissime attività di studio molto più efficacemente ma un manuale un libro un testo da affiancare è importante uno perché sentir dire le stesse cose in modo diverso rafforza la preparazione mai ripetere sempre sullo stesso manuale sempre sullo stesso video sempre sullo stesso rivista giuridica ma leggere lo stesso concetto l'interesse legittimo spiegato da più punti di vista questo aiuta allora affiancare il manuale alla preparazione con i corsi è sempre utile manuali ci sono di vari tipi abbiamo manuali completi manuale di diritto amministrativo abbiamo schemi e schede di diritto amministrativo ovviamente schemi e schede non sostituiscono il manuale né il corso ma servono per avere un quadro sintetico quando un'ottima preparazione non fate l'errore di pensare a strumenti snelli strumenti sintetici riassunti come sostitutivi della preparazione perché come dico sempre io si va ai concorsi che sono competizioni si va per gareggiare contro gli altri non si va per prendere la patente di guida così come potete trovare dei compendi già meglio il compendio è la versione sintetica del manuale quindi preferibilmente un manuale se ritenete troppo grande perché avete già vari strumenti un compendio alla fine alla fine può essere utile anche schemi e schede di una certa materia ora vi ho preso in questo caso il diritto amministrativo ma vale per ogni altro tipo di materia all'interno di questi libri qui è proprio il capitolo 1 il diritto costituzionale il diritto costituzionale costituisce quella branca del diritto pubblico che studia come studiare a meglio il consiglio che vi do io come facevo io quando studiavo io la prima volta andavo a leggere il manuale preferibilmente edizioni simone e andavo a evidenziare con l'evidenziatore le parti più interessanti perché lo scopo era alla seconda lettura vado a leggere solo le parti evidenziate alla terza lettura mi faccio gli appunti delle parti evidenziate così mi evito di rileggere l'intero libro perché potrei non avere tempo perché diciamo è può essere dispersivo e allora l'indicazione che vi posso dare è questa ovviamente il titolo branca del diritto pubblico principi e norme attenzione quando sottolineate domandatevi sempre che cosa sto sottolineando che differenza c'è fra principi e norme principi sono le norme generali le norme dette anche disposizioni sono quelle puntuali allora voi troverete spesso riferimenti ai principi e alle disposizioni sono due concetti diversi che descrivono vari livelli della normativa ovviamente il diritto costituzionale si chiama in questo modo perché sono i principi e le norme contenute nella nostra carta costituzionale eventualmente anche in un'ottica comparata delle altre carte costituzionali come sottolineato in dottrina le norme della costituzione disciplinano vari aspetti le fonti del diritto vi ricordate il quiz che abbiamo fatto le fonti di cognizione di dove vengo a conoscenza del diritto il diritto costituzionale mi dà alle fonti del diritto e le fonti e alcune delle fonti di cognizione l'organizzazione costituzionale dello stato le libertà e i diritti costituzionali e la giustizia costituzionale vi sottolineo questo aspetto che a volte anche questa nozione elementare come vedete una mezza pagina si riesce a riassumere in cinque punti sottolineati se poi voi vi fate su un foglio su un foglio word su un foglio è un editor di testo o un testo fisico vi segnate solo questi aspetti riuscite a fare un ottima sintesi la sintesi ma ottima se la faccio io non se la prendo da qualcun altro perché ovviamente nel momento in cui io sto facendo la sintesi ho letto comunque l'intero manuale come vi dicevo nelle prossime edizioni avremo anche esperti e ospiti di questo telegiornale in questa prima edizione diciamo di lancio non l'abbiamo ancora organizzato quindi avremo chi ci farà dei servizi registrati che io vi lancerò e poi magari commenteremo avremo in diretta tanti di collaboratori e ve lo dico chi di voi fosse interessato a diventare collaboratore e intende magari realizzare un video ad esempio un classico video all'aperto dove si spiega come il diritto amministrativo sia diffuso nel mondo oppure un video di commento ad un articolo alla norma una legge o vuole registrare un quesito da porre poi rispondere nel tg lo promuova senz'altro siamo anche a sperimentare nuove forme e iniziative vediamo allora un'altra rubrica che sarà spesso frequente nel tg jolly e decaloghi cosa sono i jolly cosa sono i decaloghi allora come detto i concorsi sono competizioni si va per fare meglio di quello accanto non si va per prendere 27 si va per prendere uno di più di quello accanto questo avviene molto spesso se io mi preparo su cose che gli altri non studiano per cui chi studia limitandosi a le materie del concorso agli aspetti essenziali a leggere una sola volta il libro generalmente si ferma nel gruppone e non riesce ad avere successo ora con il tagliadonei addirittura si è potenzialmente fuori anche dall'edoneità mentre andare a cercare gli elementi di attualità gli aspetti di dettaglio di una disposizione importante allora nei manuali simone voi troverete molte parti scritte in carattere più grande aria al 12 diciamo così e alcune parti scritte molto piccole la maggior parte di quelli che studiano sui manuali tendono a lasciare da parte le parti piccole allora alla prima lettura vi consiglio lasciatele stare perché alla prima lettura dovete prendere padronanza della materia alla seconda lettura si va a cercare lì dentro i giolli vi ricordate vi ho letto prima la dottrina dice bim petruzzella quel quell'aspetto lì quegli autori lì sono una nozione non fondamentale per capire cos'è il diritto costituzionale ma sono giolli fondamentali all'orale citare un autore di dottrina allora sapere anche l'informazione se è un'informazione essenziale per la preparazione o è un'informazione giolli è importante cosa sono invece i decaloghi i decaloghi fanno parte della parte finale della preparazione quando ho studiato bene la materia la devo riassumere e devo essere in grado in dieci punti di poter riassumere ad esempio il concetto di procedimento amministrativo allora vi consiglio prendete un istituto giuridico che può essere il soccorso istruttorio il consiglio comunale il procedimento amministrativo l'anagrafe quello che volete e cercare di trovare dieci sempre dieci datevela come regola dieci punti una singola parola o due parole al massimo che insieme sintetizzino questo aspetto ovviamente dietro quella parola voi sapete ricostruire una frase ok non basta dire la parola all'orale o allo scritto non potete scrivere questa sequenza lista della spesa ma siete in grado di sapere che il procedimento amministrativo è una sequenza un flusso una sequenza di atti diretta all'emanazione di un atto finale che prende il nome di provvedimento amministrativo e questo è già un aspetto sequenza atto e provvedimento la differenza fra gli atti della fa delle fasi del procedimento e quello finale che prende il nome di provvedimento le fasi aperta parentesi iniziative istruttoria decisoria integrativa dell'efficacia il responsabile del procedimento e qui ci potete collegare il concetto di dominus la differenza con il loop degli appalti eccetera eccetera la comunicazione di avvio del procedimento strumento importante nella 240 90 i motivi ostativi all'accoglimento della domanda il 10 bis il responsabile in via sostitutiva che è anche un jolly perché stesso viene dimenticato la conferenza di servizi la scia l'autotutela ovviamente ne ho lasciati altri 10 o 20 di concetti però se voi riuscite quando sarete all'orale quando sarete allo scritto alla domanda inerente il procedimento amministrativo a visualizzare queste 10 o comunque avere imparato a studiare anche preparando il decalogo vedrete vi troverete molto meglio soprattutto all'orale dove la tensione l'emozione spesso crea carta bianca nel cervello e quindi ogni volta nel tg proporremo un decalogo da affrontare io ringrazio simona anzani collaboratrice ormai da numerosi anni che realizza per il tg e sarà anche in diretta con noi norme e sentenze quindi una selezione di quelle che sono interessanti non le più importanti interessanti novità normative e sentenze che vi ricordo sono jolly cioè poiché sono recentissime è probabile che la commissione non le conosca o non si aspetti dal candidato che questo gliele esponga e questo può fare la differenza anche di numerosi punti allora vediamo simona che cosa ci ha preparato intanto la approvazione freschissima decreto legislativo 19 marzo 2024 numero 31 disposizioni integrative e correttive del decreto 150 2022 recante delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa eccele le definizioni dei procedimenti giudiziari stiamo andando in quella fase della legislatura legislatura il periodo di cinque anni in cui un governo se riesce a reggere diciamo governa siamo un anno e pochi mesi dalla entrata in carica del dell'attuale governo la fase nella quale si iniziano a fare le riforme più sostanziali per arrivare probabilmente di qui a pochi mesi alla riforma costituzionale la riforma della giustizia penale è sicuramente uno dei temi uno degli obiettivi e parte o comunque procede con questo decreto legislativo ricordatevi quando vedete una norma fate un po di ripasso anche di diritto costituzionale che cos'è il decreto legislativo se c'è un decreto legislativo vuol dire che a monte c'è una legge delega vedete di attuazione della legge 134 2021 che la legge delega disposizioni integrative e correttive del decreto 150 vuol dire che la legge delega del 2021 era già stata attuata con un decreto legislativo ma i nuovi decreti legislativi quelli che ormai vengono comunemente quotidianamente o periodicamente approvati prevedono che entro due anni dall'emanazione del primo decreto legislativo di attuazione il governo possa adottare misure correttive integrative ed è questo il caso quindi noi abbiamo un decreto legislativo che va a integrare a correggere un precedente decreto legislativo frutto di una legge delega in questo caso il processo penale potrebbe essere un'altra cosa quindi cogliere l'occasione di sapere l'attualità quindi riforma del processo penale ma sapere anche di diritto costituzionale ripassando dalle nozioni dalle informazioni che si vanno ad apprendere sempre nella gazzetta ufficiale recentissima ministero degli affari esteri della cooperazione internazionale decreto 17 gennaio 2024 numero 32 regolamento sulle procedure di scelta del contraente l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero perché il codice dei contratti pubblici ovviamente disciplina gli appalti ma finché li disciplino sul territorio nazionale è un conto quando un'impresa svolge un appalto un'impresa italiana svolge un appalto all'estero per conto di un'amministrazione italiana ovviamente non per conto di una privata o di un'amministrazione straniera c'è il tema dell'applicazione all'estero del codice degli appalti e questo decreto disciplina appunto le procedure di scelta del contraente vi sottolineo che è appunto un aspetto non secondario della disciplina del codice degli appalti simona ci ha selezionato dal sito giustizia amministrativa anche una sentenza consiglio di stato 8 febbraio 2024 numero 12 1295 il diritto di accesso parliamo dell'accesso documentale sull'accesso trovate tantissime sentenze il diritto d'accesso sussiste anche a favore delle organizzazioni sindacali non rappresentative cosa vuol dire non rappresentative allora qui ogni volta che leggete un rigo di una sentenza una massima un po di ripasso diritto costituzionale i sindacati sono disciplinati dalla costituzione testo unico del pubblico impiego la rappresentanza sindacale per la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata partecipano alla contrattazione nazionale soltanto i sindacati che hanno una certa rappresentatività semplifichiamo il 5 per cento questa sentenza ci dice un sindacato che non raggiunge quella quota di partecipazione quindi non partecipa alla contrattazione nazionale ha comunque diritto di accesso documentale alle informazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro dell'organizzazione infatti il consiglio di stato dice l'accesso non deve concretizzarsi in un controllo preventivo e generalizzato della amministrazione perché comunque un accesso documentale ma l'assenza di rappresentatività del sindacato non influisce sulla legittimazione d'agire la razza di questa decisione risiede nell'accessorietà e complementarietà della richiesta d'accesso rispetto ai diritti di informazione quindi il fatto che il sindacato non partecipe alle trattative non esclude che non possa vantare il diritto di accesso della legge 241 del 1990 perché è un'altra disciplina diversa sentenza interessantissima è la prima che si occupa di questa tematica dell'accesso documentale in un segmento così particolare quiz in diretta preparatevi nella chat a rispondere e quindi avremo tre volte in cui vi presenterò questi quiz in diretta lo chiamiamo quiz numero due magari anche se ha un altro un'altra numerazione nel diritto amministrativo per ordinanze si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti imponendo ordini è un'ottima occasione di ripasso quali fra i seguenti non è un carattere proprio delle cosiddette ordinanze di necessità ed urgenza o dette anche libere a non necessitano di motivazione specifica rinvenendo la stessa nella legge attributiva del potere b sono atipiche ci devono essere pubblicizzate con mezzi idonei a voi la risposta io intanto guardo il sondaggio per vedere quanti la indovinano e poi vi spiego il perché di questa tipologia di quiz sempre presi dai manuali dell'edizione simone che contengono quiz commentati poi vedremo il commento che ci viene fornito ricordo ogni quiz deve essere un'occasione per un mega ripasso sulle varie nozioni fra cui appunto quella di ordinanza ma più in generale sulla redazione degli atti amministrativi allora vi dirò che questa questa è una domanda che in un concorso può fare la differenza probabilmente più della metà la sbaglierà perché ci sono dei trabocchetti è una domanda medio difficile barra difficile intanto vediamo perché ordinanze di necessità d'urgenza la domanda non è sulle ordinanze in generale ma solo sulle ordinanze o dette anche contingibili d'urgenti per gli enti locali o di necessità d'urgente dette anche libere allora attenzione però vedete quella freccia la domanda è al negativo io sono convinto che la maggioranza di voi ha risposto pensando al positivo perché perché gli studenti chi partecipa ai quiz raramente vede la negativa nella domanda è una questione proprio celebrale quindi stare molto attenti siccome la domanda è negativa io devo trovare le caratteristiche dell'ordinanza le ordinanze contingibili d'urgenti sono atipiche non prevedono già i casi in cui si applicano e ci mancherebbe altro che non devono essere pubblicizzate certamente con mezzi idonei l'errore è nella a non necessito di motivazione specifica certo che necessito di motivazione specifica anzi la motivazione è rafforzata questo è un errore tipico di pensare che non ci sia necessità di motivazione nelle ordinanze d'urgenza proprio perché sono atipiche e urgenti devono motivare sul fatto che non esiste altra modalità attraverso la quale intervenire e perché si adotta quel provvedimento secondo criteri di proporzionalità e quant'altro quindi attenzione perché sondaggio mi dice che il 60 per cento avrebbe sbagliato questa risposta ed è frequente anche per la presenza del non il commento sul manuale le ordinanze devono avere carattere normativo cioè creare statuizioni precettive generali d'astratte nel diritto amministrativo le ordinanze necessità o libere sono emanate per far fronte a situazioni di urgente necessità la particolarità sta nel fatto che la legge attribuisce solo il potere ma non prevede i casi concreti ecco perché sono atipiche esse pertanto vengono qualificate come atti extra ordinem nel diritto c'è una forte forte ancora utilizzo del latino extra ordinem fra l'altro è una formula latina che abbiamo anche in italiano straordinario deriva da questo non c'è l'ex straordinario vuol dire al di fuori dell'ordinario nel senso che il presupposto è costituito da un pericolo e l'eccezionalità rende indispensabili gli interventi immediati ma non è finita come vi dicevo molte delle risposte che trovate nei manuali commentati sono quasi un paragrafo questa è semplicemente la risposta al quesito ma che mi dice le ordinanze sono atti formalmente sostanzialmente amministrativi attenzione a questi concetti formalmente e sostanzialmente amministrativi vi faccio una domanda scrivete nei commenti esistono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi ecco esistono scrivete quali sono anche questo l'avreste trovato nei capitoli sono atipiche presuppongono necessità d'urgenza sono straordinarie extra ordinari l'abbiamo detto efficacia temporale limitata adeguatamente motivata vedete in eretto per dirvi attenzione questo è il motivo per cui si è sbagliato ad indicare la e non possono ovviamente derogare a norme costituzionali né a materie coperte da riserva assoluta di legge e intanto vedo che nei commenti stanno arrivando le risposte al quesito che ho formulato abbiamo trovato extra ordinem allora una delle rubriche che vi proporrò molto rapida è un paio di parole latine un paio di frasi latine o parole frasi inglesi che si usano nel diritto amministrativo frequentemente ad impossibilia nemotenetur ogni tanto lo troverà lo trovate soprattutto nel codice civile ma anche nel diritto amministrativo ad esempio un'ordinanza extra ordinem che mi ordinasse di realizzare un grattacielo di 500 metri sarebbe impossibile e nessuno è tenuto a fare un qualcosa che non è possibile in natura ad impossibilia nemotenetur nessuno è tenuto alle cose impossibili a fare cose impossibili c'è un'altra formulazione interessante che è de jure condendo quando si parla del diritto si è solito dire appunto del diritto prodotto de jure condito il diritto che è già stato prodotto e quando invece si parla del futuro si parla appunto con questa formulazione de jure condendo il diritto che dovrebbe essere formulato che sarà formulato ad esempio se ho una legge delega poi ho de jure condendo il diritto successivo queste due frasettine latine per ricordarsene e usarle ovviamente a proposito smart working soft skills sono due tematiche smart working soprattutto durante il periodo covid ma ancora esistente nella pubblica amministrazione e i contratti collettivi del periodo lo hanno regolamentato lavoro agile o lavoro intelligente fra l'altro è una formulazione anglofona che non esiste in inglese gli inglesi non usano la terminologia smart working è italianizzata soft skills invece vanno di moda tantissimo adesso sia per i profili dirigenziali che per i profili di livello non dirigenziale fra l'altro abbiamo un decreto ministeriale che stabilisce appunto le modalità attraverso le quali verificare le competenze trasversali ora faremo un approfondimento del personale della pubblica amministrazione sempre più richieste nei concorsi sempre più richieste nella pubblica amministrazione andiamo alla quiz in diretta pronti vi preparo il terzo quiz vediamo un po se questa volta le percentuali sono maggiori attenzione ai tranelli non ve ne ho messi molti allora domanda che può sembrare molto semplice ma non lo è l'articolo 1 della 241 del 90 individua i principi generali dell'attività amministrativa la norma in particolare stabilisce che i rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione devono essere improntati articolo 1 comma 2 bis a ai principi della trasparenza e della collaborazione reciproca b ai principi della collaborazione della buona fede c ai principi di buon andamento e della collaborazione come vedete sono tutti i principi esistenti la cui vi spiego dove sta l'inghip ovviamente vi invito se state seguendo la diretta a non andare su google e cercare la norma perché non ha senso mettetevi alla prova tanto anche le risposte sono anonime nessuno vi sbeffeggia però a cercare di intuire che nonostante siano tutti presenti il focus della domanda sta nel fatto che chiedo quali sono previsti in un particolare comma non nell'ordinamento nell'ordinamento ci sono tutti buon andamento è addirittura in costituzione mi domando se allora vi ha già vi ho dato una mano perché il buon andamento è in costituzione ma oggi non si usa più questa dizione raramente troverete nel testo legislativo la parola buon andamento perché è stata sostituita da efficace efficienza economicità quindi la c si potrebbe già scartare la trasparenza è un bel principio fra l'altro un principio che la 242 90 fa proprio ma lo fa proprio nel comma 2 bis no perché perché noi abbiamo il principio di collaborazione pubblico privato e della buona fede che sono citati nel comma 2 bis gli altri appunto erano dei trabocchetti anche qui l'occasione di ripasso del commento che trovate appunto sul manuale la legge 241 disciplina l'esercizio dell'azione amministrativa serve per favorire il dialogo e la collaborazione reciproca c'è il dialogo e la collaborazione reciproca ma non è l'addizione del 2 bis i rapporti fra il cittadino e la pia sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede bene e anche in questo caso 50 per cento l'ha sbagliato questa risposta quindi vedete domande apparentemente semplici ma non vi preoccupate l'importante cos'è quando si affrontano i quiz e si sbagliano se ho il commento io imparo nuove nozioni se io faccio centinaia di quiz senza commento mi rimane pochissimo in mente perché non riuscirò mai a memorizzare quelle risposte ho l'illusione ma il giorno dopo le ho già dimenticate una rubrica che svilupperemo in modo approfondito con un'altra collaboratrice ma ve la presenterò nelle prossime edizioni è quella sull'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo sta cambiando il mondo della pubblica amministrazione che si voglia o non si voglia quindi il consiglio che vi do è studiatela utilizzatela tenetela d'occhio perché già oggi si fanno tantissime cose con l'intelligenza artificiale anch'io nel mio piccolo le sto sperimentando qui la uso in termini banali ma utili cioè intelligenza artificiale che può essere chat gpt o io utilizzo gemini.google.com scritto gemini.google.com vedete in basso a destra troverete sempre la fonte da dove prendo le informazioni gli ho scritto mi dici una sintesi dei servizi pubblici locali che è una delle materie più odiate da chi si prepara ai concorsi perché è una materia oggetto di faraginose norme disposizioni allora può essere utile quando non comprendo un concetto un po articolato usare l'intelligenza artificiale perché spesso alterna alla descrizione raramente tecnica spesso più descrittiva i servizi pubblici locali acronimo spl sono attività svolte a favore della collettività su un determinato territorio con l'obiettivo di soddisfare bisogno essenziale della popolazione questa è la definizione caratterizzati da rilevanza economica interesse economico generale universalità continuità qualità caratteristiche di questo di questi servizi sono a rete o non a rete la normativa e poi prosegue gli enti responsabili io vi ho messo soltanto ovviamente una selezione perché tanto potete replicare queste informazioni quindi ad esempio servizi pubblici locali o qualunque altra informazione non usate l'intelligenza artificiale al posto dei corsi o dei manuali l'intelligenza artificiale è quell'ulteriore soggetto che mi racconta una cosa che ho studiato in modo diverso l'ho vista in un video non l'ho capita al 100% ho guardato il manuale mi rimangono dei dubbi chiedo all'intelligenza artificiale se lo fate per primo con l'intelligenza artificiale rischiate un patatrack dal punto di vista vostro formativo quindi sconsiglio di utilizzarlo come primo momento risposte ai quesiti cosa sono sulla piattaforma della community della omiavis che è una delle collaboratori di questo telegiornale spesso vengono formulati dei quesiti io li prendo e li utilizzo per una rubrica appunto risposte ai vostri quesiti una domanda così come è stata formulata è mi potresti indicare quali sono gli strumenti che mette a disposizione consip per gli acquisti pubblici e quali differenze ci sono fra loro potresti farmi degli esempi ecco questa è una domanda classica fra l'altro nella community trovate la sezione esperto risponde collegata chat gpt per cui chiunque fa un quesito troverà la risposta dell'intelligenza artificiale settata per il diritto amministrativo che prende a riferimento tutta la banca dati prodotta e la gran parte dei miei video per dare le risposte e 80 per cento sono molto pertinente quasi adeguate poi qualcuna magari c'è da approfondire quindi su questa c'è la risposta dell'intelligenza artificiale ma io utilizzo uno schema che spesso utilizzo nei miei percorsi di riformazione che è questa schematica qui questo schema generale qui come vedete abbiamo nelle colonne la colonna con oda ordine di acquisto td trattativa diretta rdo richiesta di offerta queste attenzione sono procedure telematiche non sono procedure di gara non sono procedure di affidamento è sbagliato chiamarle procedure di affidamento il diritto non le conosce le conosce consip perché le usa come strumenti della propria piattaforma telematica quello che il diritto conosce invece sono le altre nella prima riga l'affidamento diretto la competitiva con negoziazione la negoziata senza bando quella che io chiamo la maxi negoziata e la procedura aperta allora questo schema vuole spiegare in termini sintetici quali strumenti usare informatici per fare le procedure amministrative vi faccio un esempio se voi volete fare un affidamento diretto perché siete sotto i 140 mila per i servizi e forniture sotto i 150 mila per i lavori potete usare uno qualsiasi dei tre strumenti del della consip perché perché potete fare un ordine di acquisto acquistando direttamente a catalogo potete aprire una trattativa diretta con uno più operatori potete lanciare un rdo in cui chiedete la offerta e poi aggiudicate affidate anzi più correttamente al soggetto che ha fatto l'offerta più adeguata questo è l'utilizzo di questi strumenti mediante la piattaforma elettronica ma attenzione non c'è un rapporto bionivoco cioè l'oda si usa per l'affidamento diretto ma si usa anche per altre cose le vedremo competitiva con negoziazione la competitiva con negoziazione cioè quella procedura nella quale io metto in competizione operatori diversi per farmi un'offerta la si può fare con lo strumento principale che è la rdo ma la si può fare anche con la trattativa diretta cioè io posso chiedere singolarmente agli operatori senza far conoscere che sto chiedendo i vari preventivi e poi aggiudicare in base alla migliore offerta ovviamente la competitiva con negoziazione non può usare lo strumento dell'oda perché l'oda è uno strumento di acquisto la trattativa diretta la rdo sono strumenti di negoziazione anche questo è importante come differenza e poi lascio a voi chi vuole troverà sul mio canale youtube il video dove spiego poi gli altri utilizzi vi dico soltanto questo da questa scheda si può imparare tanto degli appalti sia che la legga verticalmente come stiamo facendo noi l'affidamento diretto quali strumenti usa la competitiva con negoziazione quali strumenti usa la negoziata senza bando sia orizzontalmente cioè con l'oda cosa posso fare con la trattativa diretta cosa posso fare con la rdo vedete che è quella più duttile perché posso fare quasi tutto tranne la negoziata senza bando abbiamo parlato delle soft skills noi faremo un approfondimento in varie rubriche ora non è detto che tutte le rubriche che vediamo oggi saranno riprodotte anche prossimamente però in ogni tg però mi andrà sicuramente di approfondire le soft skills trovate tanti libri tanti manuali tanti testi tanti documenti online c'è chi dice che le soft skills sono cinque chi sette chi undici chi venti chi dieci io a me piace il decalogo è un po per la nostra tradizione culturale il 10 diciamo rappresenta lavoriamo su numeri decimali e quindi è quello che prediligo c'è chi appunto classifica le soft skills in comunicazione capacità di comunicazione empatia etica lavorativa creatività leadership pensiero critico problem solving flessibilità adattamento resilienza team working le trovate descritte anche in altro modo la pro attività però ci accontentiamo di queste vi consiglio per chi studia questa materia libro dell'edizione simone competenze trasversali e soft skills nei concorsi quindi finalizzato a individuare spiegare come si utilizzano proprio all'interno dei concorsi quindi la guida il test della personalità i quiz situazionali che sono quelli più ricorrenti i test psicoattitudinali e il colloquio di lavoro un'altra rubrica che oggi vi accenno e basta ma spesso nelle mie dirette mi capita di farlo di utilizzarla è quella della improvvisazione giuridica che qui ho chiamato dammi tre parole cosa significa se voi casualmente del tutto a caso anche guardandovi in casa c'è una tazza ok c'è una penna e c'è un manuale tazza penna manuale provate a dare una risposta come se foste all'orale di un concorso mettendo insieme questi concetti se lo fate con concetti giuridici riuscirete a ripassare meglio io ve ne ho messi tre a caso per tentare di farvi esercitare provvedimento tributi ambiente quindi tre concetti che rientrano nel mondo del diritto e degli studi che si devono fare quindi partendo dall'uno dall'altro indifferente cercate di elaborare un discorso di almeno tre minuti nel quale mettete insieme queste tre parole ora ve l'ho solo accennato nella prossima edizione io vi chiederò in diretta di scrivermi nella chat tre parole in modo tale che non me le prepari che che sia veramente un'improvvisazione e cercherò di rispondere a queste anzi se volete già iniziare a metterle in chat magari se prima della fine del tg ci viene voglia proviamo a esercitarsi scrivetele proprio due o tre ognuno scriva tre parole non necessariamente dello stesso ambito anzi preferibilmente non dello stesso ambito quindi dammi tre parole metodo didattico interessante utile per la preparazione molti di quelli che seguono questo tg si stanno preparando ai concorsi pubblici concorsi pubblici che ovviamente oggi con impia.gov.it si possono seguire nella loro pubblicazione ufficiale non si deve più guardare la gazzetta ufficiale quindi abbiamo una fonte univoca di pubblicazione però può essere utile anche seguire dei blog le edizioni simone hanno un blog che si chiama simone concorsi.it dove durante il tg magari vi riporto quelli che sono gli ultimi bandi mi serve solo per questo perché poi il blog lo guardate da voi ancora il fabbisogno di personale nella pubblica amministrazione sarà a livelli elevati per diversi anni ci sarà ancora un boom di concorsi per un paio d'anni e numerosi concorsi per i prossimi 3 4 5 anni questo perché perché i concorsi servono sia per coprire il fabbisogno di personale che è elevato perché veniamo da circa 10 anni di blocchi di concorsi e anche durante questo periodo abbiamo avuto alcuni concorsi ritardati o bloccati o diciamo che hanno avuto delle vicissitudini diciamolo così ma soprattutto la pubblica amministrazione assume soprattutto per turnover cioè il cambio generazionale perché la media di età dei dipendenti pubblici si aggira intorno ai 55 anni di età quindi ogni 12 anni c'è una mandata di nuovi pensionamenti ogni anno c'è la mandata di nuovi pensionamenti ed essendo la maggior parte di dipendenti pubblici oltre 55 anni quindi prossimi alla pensione abbiamo numerosi numerosi avvicendamenti quindi qui trovate alcuni bandi università di ferrara università di pisa spesso trovate a gruppi perché perché il ministero dell'università ha aperto alla possibilità di avviare le procedure concorsuali soprattutto gli enti statali vanno adondate questo è un vantaggio per gli studenti perché uno studente che vuole provare a vincere un concorso pubblico se studia in un momento sbagliato il diritto alla legislazione universitaria non troverà concorsi quando li trova spesso ne trova più di uno e quindi con quella preparazione può partecipare a più concorsi cosa che non avviene ad esempio negli enti locali che invece bandiscono in tempi diversi quindi tenete conto di questo aspetto ecco perché spesso trovate gruppi di bandi del settore sanitario delle regioni o appunto dell'università o dei ministeri università di palermo eccetera 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 quindi simone concorsi punto it un punto di riferimento per l'aggiornamento ovviamente non soltanto sull'esistenza del concorso ma anche sui suggerimenti bibliografici per lo studio come abbiamo detto suggerimenti bibliografici per lo studio ci sono manuali che spiegano le norme gli istituti giuridici i concetti un altro aspetto importante si studia sulle norme no le norme non sono fatte per studiare le norme hanno una funzione precettiva non hanno una funzione descrittiva le norme non spiegano il diritto se voi pensate di leggere la 242 90 per capire il diritto amministrativo sbagliate di grosso non c'è neanche la definizione di procedimento amministrativo non ci sono neanche le fasi del procedimento amministrativo non c'è niente del diritto amministrativo se non so leggerla attraverso la teoria del diritto amministrativo ecco perché servono sia libri di teoria che poi una volta che ho solida la teoria e capiti i concetti magari guardate anche le norme posso andare ad esempio ai quiz questo è il manuale concorso snah 116 allievi dirigenti quiz commentati un consiglio per chi si prepara quando vi preparate a un concorso scegliete come libro se potete il libro per il livello superiore se state studiando per un concorso di categoria c usiamo le vecchie categorie categoria c comprate un manuale per categoria d se state studiando da d comprate un manuale per dirigente se state studiando da dirigente comprate un manuale per dirigente magari un altro manuale per dirigente o un manuale universitario perché si va a una competizione quel libro che voi state comprando probabilmente lo comprano anche i vostri concorrenti e quindi voi dovete fare meglio ecco il consiglio è quello di studiare ad un livello superiore se possibile questo manuale allievi dirigenti va bene per tutti c d e ovviamente per i profili dirigenziali trovate le materie vedete costituzionale unione europea diritto amministrativo ci sono anche le materie economiche è un ottimo manuale anche per chi si prepara per segretario comunale dove spesso vengono chieste le materie economiche meno per altri concorsi trovate vedete in fondo i quesiti situazionali quindi avete anche le materie trasversali poi se alcune di queste materie non vi interessano non importa prendete comunque il manuale ed è la politica economica la saltate però l'ottanta per cento del manuale è sicuramente valido magari anche per il concorso che andate a fare altro esempio di manuale vigile urbano agente ufficiale di polizia locale manuale completo per concorsi aggiornamento professionale vedete con tutta la normativa ovviamente il costituzionale l'amministrativo il penale lo trovate molto simile nelle varie manuali perché ovvio perché quello non è niente di diverso altro aspetto è opportuno avere il manuale nella versione aggiornatissima allora ovviamente se lo dovete comprare sì è la soluzione migliore ma se avete un manuale che non è vecchissimo che ha due anni tre anni attenzione sapendo bene che alcuni di questi aspetti andranno studiati come aggiornamento può essere comunque un ottimo strumento di preparazione quindi studiate su quel manuale e poi vi aggiornate su normativa su wikipedia da qualche altra parte dove trovate gli aggiornamenti camera dei deputati manuale per la preparazione qui vedete sicurezza solo di lavoro primo soccorso prevenzione incendi elementi di diritto costituzionale elementi di diritto parlamentare è un po' più particolare quindi guardate bene l'indice fra l'altro che molto spesso sul sito dell'edizione Simone riuscite a scaricare quindi vedete il contenuto di questi manuali all'interno dei manuali poi abbiamo ecco un altro esempio di paragrafo da sottolineare l'apparato amministrativo centrale il governo è l'organo costituzionale si compone di più organi la fiducia consiglio dei ministri presidente consiglio ministri io generalmente quando sottolino i libri non sottolino le parole in grassetto che già il libro mi ha sottolineato perché altrimenti creo confusione a volte vedo studenti che sottolineano tutto non serve a niente sottolineare tutto serve sottolineare ciò per cui alla volta dopo vedete come ho fatto io io adesso ho letto solo le parole che ho sottolineato perché la prima volta mi sono letto comunque tutto il testo a questi si aggiungono organi non necessari attribuzione consiglio dei ministri legge 400 dell'88 vedete torna frequentemente quindi è importante quindi me la devo segnare quindi alla fine della preparazione la devo andare a leggere se è citata in numerose pagine la devo andare a leggere alla fine ma la leggo 95 della costituzione me lo vado a ripassare anche se non è scritto i ministri ovviamente l'organizzazione per ministeri posso cambiare colore ma non importa e questo dipende dai vostri gusti il concetto di ramo di attività ogni ministero ha un'organizzazione per materie gli esteri l'interno la giustizia la difesa il concetto di ministro senza portafoglio che spesso fa un po ridere si fa sempre battute sul ministro senza portafoglio ma è un concetto importante che spesso ritorna nei quesiti il concetto di dicastero cos'è il dicastero allora prendo l'intelligenza artificiale gli chiedo cos'è il di castero e vedrete che non è un altro che un sinonimo per indicare il ministero diciamo dal punto di vista organizzativo l'articolo 95 prevede una riserva di legge relativa sull'organizzazione dei ministeri che è stata attuata con il decreto legislativo 300 del 99 altra norma fondamentale che prevede l'organizzazione dei ministeri in dipartimenti direzioni generali uffici dirigenziali generali uffici di staff guardate questi concetti uffici dirigenziali generali uffici di staff sono concetti che voi troverete nel capitolo del pubblico impiego allora dovete pensare che quando studiate una materia costituzionale non è separata dal pubblico impiego non è separata dal diritto amministrativo le materie sono tutte collegate la prima volta non ve ne accorgete la prima volta si studia settorialmente ed è giusto così poi dopo dovete essere in grado voi di dire accidenti mettiamo un asterisco uffici dirigenziali generali ma io l'ho sentito nel capitolo del pubblico andiamo a vedere di che cosa si tratta ok però che cosa ho trovato qui questo non è nel libro perché devo sapere che il libro non può avere tutto allora cosa faccio siccome ho capito che il ministero ha una sua organizzazione in dipartimenti direzioni andiamo a vedere un organigramma l'organigramma è la descrizione grafica dell'organizzazione di un ente di un ministero questo è un ministero in particolare il ministero dell'economia e delle finanze il ministro i vice ministri i sottosegretari gli uffici diretta collaborazione i dipartimenti vedete quella parola dipartimento che trovate qui è questa è quella che trovo nel libro allora quando io passo dalla teoria vedete in questa in questa pagina il dipartimento è solo teoria io non ho capito che cos'è la vado a vedere dipartimento del tesoro dipartimento dell'economia e poi magari cliccando sul più vado a vedere anche i dettagli e vedo la ragioneria generale dello stato i vari uffici che cosa sono gli uffici di staff che cosa sono apprendo molto più rapidamente allora saper che il libro è una fonte importante i video sono una porta importante ma la pluralità di fonti oggi che abbiamo internet che ci restituisce tutto è ancora più importante grazie sempre a simona che seconda rubrica di norme e sentenze tar sicilia 19 marzo 2024 freschissima riguarda il principio di rotazione in materia di appalti perché perché c'è stata una lunga discussione su cosa si intende per due affidamenti consecutivi io quando ho letto la norma non avevo dubbi due affidamenti consecutivi significa che c'è un operatore uscente che ha già un primo affidamento e che principio di rotazione non può avere un secondo affidamento cioè la rotazione fra l'operatore uscente e il secondo affidamento c'è chi ha detto che siccome si parla di due affidamenti consecutivi due affidamenti consecutivi si possono fare è sul terzo che si applica il principio di rotazione e questa tesi è stata sostenuta da diversi commentatori il tar della tar sicilia catania invece adotta la prima tesi che fra l'altro era quella contenuta nell'inanaca 4 quella diciamo più diffusa è una sentenza che conferma questo orientamento grazie a simona una rubrica che troveremo è l'assai l'ultima l'assai l'ultima è i jolly le novità cioè le cose che dell'ultima settimana quelle che vengono prodotte pochi giorni prima fra l'altro in questo caso proprio oggi perché oggi si è riunito il consiglio dei ministri numero 75 del 26 marzo 2024 ed ha approvato una serie di provvedimenti interessanti al di là del contenuto per ripassare il diritto costituzionale amministrativo il consiglio dei ministri ha approvato due schemi di disegno di legge cosa sono gli schemi di disegno di legge il disegno di legge è quello strumento attraverso il quale il governo propone al parlamento una normativa che viene approvata con legge ordinaria quindi l'iniziativa legislativa è svolta dal governo che propone al parlamento il disegno di legge il parlamento lo vota con la navette con tutte le caratteristiche che conosciamo attenzione in questa fase ha approvato uno schema quindi ancora su questo poi il consiglio dei ministri dovrà approfondire due schemi disposizione in materia di tutela dei minori in affidamento disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economica e di servizio a fuori cittadine le imprese la bolkestein ok o meglio le norme inerenti le attività economiche e la semplificazione fra l'altro il ministro ha fatto una comunicato stampa proprio oggi su questa tematica cosa significa che domani ho la norma no due tre quattro mesi probabilmente serviranno in estate probabilmente questo schema di disegno di legge diventerà legge perché ovviamente quando il disegno di legge è presentato dal governo ha un'alta probabilità di essere approvato quando la proposta di legge approvata dai parlamentari si chiama progetto di legge progetto di legge dei singoli parlamentari disegno di legge del governo ma il governo ha approvato un altro documento schema di decreto legislativo revisione della disciplina doganale chi si sta preparando per i concorsi in agenzia delle dogane a guzzi la vista e del sistema sanzionatorio in materia d'accise attenzione esame preliminare cosa significa sempre domandarsi cosa significa un qualcosa mai darlo per scontato allora esame preliminare significa che il governo l'ho approvato ma non è l'approvazione definitiva perché questo schema di decreto legislativo passerà alle commissioni parlamentari al consiglio di stato a tutta una serie di organi consultivi che dovranno esprimere il parere acquisito il parere il governo si ripronuncerà per l'esame definitivo due tre quattro mesi mediamente ok quindi in estate avremo anche la revisione della disciplina doganale però già oggi questa informazione è un jolly io oggi se la uso all'orale faccio un figurone ma chi è che lo sa che c'è uno schema di decreto legislativo sulla revisione doganale se andate agenzia delle dogane fate un figurone altri schemi però attenzione notate esame definitivo vuol dire che fra qualche giorno in gazzetta ufficiale io troverò due decreti legislativi attuazione della delega sul riforma dell'ordinamento giudiziario militare giudiziario e giudiziario militare e riordino del collocamento fuori ruolo dei magistrati sempre in materia di giustizia è un tema caldissimo quello della giustizia su cui appunto stanno per uscire due decreti legislativi che a breve avremo in gazzetta ufficiale quiz pronti con i quiz stiamo andando verso la fine di questo nostro telegiornale il primo diciamo probabilmente durerà un pochino più a lungo rispetto alla media dei prossimi tg però spero che vi siate divertite vi stiate divertendo mi sembra sia il numero 4 adesso vado a memoria anzi vado a ricontrollare si è il numero 4 allora vediamo che cosa mi dice il quesito con quattro opzioni il quesito è l'esercizio della funzione legislativa può essere delegata al governo ai sensi dell'articolo 76 della costituzione a sì liberamente b sì ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti c sì ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi senza limiti di tempo di sì ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato è un quesito che sicuramente può lasciare un po' perplessi vi lascio qualche secondo per rispondere così ne approfitto per bere allora vediamo un po' come vi organizzate rispetto a questo allora ecco qua che stanno arrivando le risposte una buona fetta sta andando nella direzione giusta vediamo dove c'erano gli errori io amo sempre dire che nei quiz ci si deve concentrare sugli aspetti linguistici per prima cosa liberamente è un concetto è un concetto giuridico che non troverete mai mai quindi quando trovate liberamente difficilmente la risposta esatta anche perché la delega completamente libera significa potere assoluto quindi la la scarto per quel liberamente stesso concetto di liberamente è senza limiti di tempo ok alla stessa idea cioè se è una delega ci devono essere dei limiti rimanevano la b e la d la li leggo bene la d mi dice sì ma solo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato mentre la b soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti definiti quindi è più specifica se provo a pensarci se io delego al governo dicendogli puoi disciplinare una certa materia entro due anni ha senso la d mi dice puoi disciplinare entro due anni quel che vuoi cioè entro due anni puoi fare tutti i decreti legislativi che vuoi quindi la d non può essere la risposta esatta perché presuppone che ci sia un potere assoluto da parte del governo 65 per cento ha risposto correttamente ed ecco il commento che trovate nei quiz commentati ai sensi articolo 76 della costituzione la legge delega legge delega decreto legislativo li abbiamo trovati vi ricordate nelle slide precedenti ecco perché è importante guardare anche i documenti reali perché se li vedo nella realtà mi ricordo meglio il concetto di legge delega decreto legislativo principi e criteri direttivi tempo limitato oggetti definiti se avete un evidenziatore sottolineate qui vi ha aiutato il libro ve li ha messi in grassetto per definire appunto i limiti della delega legislativa altra domanda chiudiamo in bellezza con due quiz questo è la numero 5 e vi vado a leggere le opzioni che sono in base alla legge 400 dell 88 vi ricordate quello che vi ho detto vi consiglio di leggere alla fine articolo 17 come 2 un regolamento governativo delegato o autorizzato a è ammesso per tutte le materie b disciplina materia in cui l'intervento di norme primarie non sia ancora configurato c non è ammesso per le materie coperte da riserva assoluta di legge previste dalla costituzione e qui può non essere semplice pensate un pochino a cosa potrebbe essere intanto vi ricordo le fonti del diritto costituzione legge regolamento e regolamento una fonte secondaria disciplinata da legge 400 dell 88 che è la legge che disciplina l'organizzazione e le competenze del governo fra cui quella di adottare decreti legge decreti legislativi e regolamenti questo regolamento governativo detto delegato o autorizzato questo è il nome i sinonimi che sono utilizzati per definire questo regolamento governativo una la si può scartare subito proprio concettualmente non si regge in piedi perché perché se è delegato o autorizzato come faccio autorizzarti per tutto ok la b mi dice disciplina in cui l'intervento di norme primarie non sia ancora configurato se ci penso bene cosa vorrà dire regolamento governativo delegato che la legge lo delega quindi se non c'è una norma primaria non c'è un regolamento delegato ora è un po difficile però se ho ripassato studiato i regolamenti la disciplina delle materie in cui l'intervento non è configurato e quindi se non ci sono norme primarie non c'è delega quindi non può essere la b rimane non è ammesso per le materie coperte da riserva assoluta di legge la riserva assoluta di legge è quella riserva per la quale una certa materia può essere disciplinata solo dalla legge e quindi il regolamento non ci può stare la materia penale è soggetta a riserva assoluta di legge infatti andiamo a vedere la risposta esatta la c non è ammessa per le materie coperte da riserva assoluta di legge vediamo però il commento perché nei commenti spesso mi dice le altre risposte a cosa si riferivano i regolamenti delegati detti anche regolamenti di delegificazione sono disciplinati appunto da 17,2 attenzione mi potete scrivere nei commenti se volete dove avete trovato recentissimamente numerosi decreti delegati o regolamenti delegati ma tantissimi regolamenti delegati cosa significa che una legge ha detto questa materia da ora in poi sarà disciplinata da un regolamento io me ne tiro fuori e questo il concetto è io che disciplinavo questa materia con legge fonte primaria non lo farò più con legge da ora in poi sarà un regolamento molto più facile molto più snello ne abbiamo trovate a decine di questi in un'unica norma in un primo riesce a scriverlo nella chat e così prende un premio simbolico una citazione allora guardate eccola qua marzia ha subito indovinato in materia di appalti di contratti pubblici il decreto 36 2023 che cosa ha previsto gli allegati al decreto sono approvati con fonte primaria con lo stesso decreto legislativo che approva il codice ma tutti gli allegati dicono le seguenti norme saranno sostituite da un decreto ministeriale da un regolamento governativo da un'altra norma di fonte secondaria in alcuni casi addirittura un provvedimento amministrativo quindi neanche regolamentare in un'ottica di regolamento delegato invece quella parte del quesito torno indietro un attimo disciplina materia in cui l'intervento di norme primarie non si sia ancora configurato sono i regolamenti indipendenti quelli con i quali il governo disciplina materia in cui l'intervento di norme primarie non è ancora avvenuto in certi ambiti dove la legge non c'è il regolamento può disciplinare la materia poi se arriva la legge il regolamento torna via si chiamano regolamenti indipendenti quindi la risposta b è quello che io chiamo specchietto per le allodole è la risposta esatta a una domanda diversa molto simile regolamenti indipendenti mentre la non ha senso quindi i quiz possono aiutare se commentati se utilizzati bene se ci sto qualche minuto in più anche in più di quello che riusciamo a starci nel telegiornale io vi segnalo alcuni dei centinaia di manuali delle edizioni simone 587 dirigenti scolastici 1675 quiz commentati agenzia delle entrate quiz commentati istruttore e istruttore direttivo contabile degli enti locali quiz commentati non guardate se non fate il concorso per dirigente scolastico o istruttore direttivo contabile guardate le materie diritto costituzionale qui scommentati vanno bene per tutto quindi se fate i concorsi dove c'è diritto costituzionale va bene anche quel libro ok quindi ottimo anche per concorsi diversi da quelli in cui mi preparo perché poi i quiz fondamentalmente sono gli stessi bene siamo arrivati verso la fine di questo telegiornale prima di ringraziarvi vi ricordo che da oggi fino a martedì prossimo noi saremo sulla piattaforma telegram a questo indirizzo dove già centinaia di voi si sono registrati nei giorni scorsi e vi metterò le slide che sto proiettando i materiali aggiuntivi link approfondimenti risponderò ai quesiti lancerò sondaggi e ci terremo aggiornati fino alla prossima edizione del tg noi ci vediamo quindi martedì prossimo colgo l'occasione di ringraziare nuovamente l'edizione simone per avermi dato questa occasione e per aver un bellissimo nome come quello del sottoscritto il 2 aprile alle 20 e 30 ci vediamo con il prossimo telegiornale e adesso sigla finale e arrivederci